Pimpistrello! Pimpistrello! Via di qui! Pimpistrello! Pimpistrello! Più carino del mondo, non è vero! Non è vero! Ci divertiremo un mondo insieme appena stacco dal lavoro! Ora aspetta qui, ti prendo uno spuntino! Gordon! C'è l'ispettore sanitario! Mettiti al lavoro e non combinare guai! Temevo che ti avrebbe visto, Amy, e poi... Putt'atno che l'atnam! Zii! Oh, tu! Ah, Babs, ma che ti ha preso? Zii, qua giù! Ok, devo rimediare! Hai, Demi! Questo? Oh, certo! Non ci sono squali ora, ma quando ne incontrerai uno ti mancherà un bug repellente antisqualo! I gatti! Da soli! Non possono! Spazzolarsi! Karen sarà felice del regalo di compleanno! Niente paura, Goldberg! Sei in ottime mani! Goldberg! Ah, ho ordinato il pollo! Devo trovare un contenitore! Troppo freddo! Troppo caldo! No! No! Preso! Oh! Uh! Ah! Eh! Preso! Oh! Oh! guardi questo dispenser è pulito come pochi sa qual è il bello di questa macchina non faccio per vantarmi questa in particolare vede ha un sistema speciale di gradisce un assaggio? beh non vedo perché no quell'ingrediente segreto dà un sapore morbido e confortante ispezione superata benvenuto al burrito bucket come posso aiutarti? grazie a tutti